I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un'ordinanza cautelare messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettore Antimafia nei confronti di 21 persone per 14 custodie in carcere per 7 arresti domiciliari, gravemente iniziate a vario titolo dei reati di associazione finalizzato a traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione a fini di spaccio di varie tipologie di droga. In particolare all'esito delle indagini sarebbe emesso l'operatività di due gruppi associati attivi nella zona di Ercolano e territori di Mitrofi, l'individuazione di varie piazze di spaccio e di plurimi episodi di cessione anche giornalieri di sostanze stupefacenti. Nel corso delle investigazioni erano arrestate in fragranza di reato diverse persone nonché sequestrate varie tipologie di droga, hashish, cocaina, crack e somme incontanti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare risposta in serie di indagini preliminari a verso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.